Mi sta inseguendo proprio di cattiveria ma ce l'ha con me Questo boss è quasi spiabile ragazzi Ragazzi oggi iniziamo direttamente in partita perchè questa challenge è veramente assurda Cioè più che challenge dovremmo spiare il boss Iron Man per le 24 ore del gioco e sarà molto divertente Siamo in compagnia di Traster per scoprire che cosa andrà a fare il boss Iron Man nelle 24 ore del gioco Traster ti vedo già in difficoltà dobbiamo essere molto cattivi perchè è pieno di nemici questa zona Eh si, oggi ho visto qui tipo 3 o 4 Eh si mamma mia guardate i nemici sono praticamente ovunque La gente che scappa con le auto di Iron Man mi sparano tantissimo Aiuto Ok sto scappando c'è un nemico lì Ok uccisi uccisi No avevano già il potere di Iron Man Ma non ci voglio credere regà Ma non ci credo ma dai così alla prima partita Oh siamo andati via Dai regà non ci credo non è possibile Regà adesso abbiamo il set del pollo completo Non dobbiamo fallire assolutamente la missione di spiare il boss per 24 ore Eh non c'è più Traster ma ci sarà nella partita dopo Si so che è una cosa un po' strana ma questo video non ha una linea temporale ben precisa Non so in che ordine state vedendo le partite Comunque questa dovrebbe essere la seconda partita ragazzi E vi dirò qui sotto c'è uno scagnozzo Non so se qualcuno di voi lo sa Ebbene speriamo che questo scagnozzo ci porti fortuna Ragazzi vi do il benvenuto al nuovo scagnozzo Ragazzi Ci sono due scagnozzi che fanno cose strane Io non voglio impicciarmi Non voglio intromettermi in situazioni strane Cari scagnozzi io prendo il loot E me ne vado Ci vediamo in un prossimo video con voi due Mi sa che tocca proprio in un prossimo video Vedervi che cosa fate voi due Bene adesso devo andare dal boss Ciao Ciao Non ho niente da dire se non ciao Comunque ragazzi fatemi sapere se vi piace questo piccone Perché secondo me è il piccone più bello di sempre Guardate c'è questo fascio di luce che colpisce Non lo so mi ispira un sacco Comunque adesso per la nostra seconda partita appunto Non c'è thruster ma ci sarà in quella dopo Vediamo se è lui che porta sfortuna con la sua nabosità Che ci porta sfiga magari non lo so Forse è lui Controlliamo subito Controlliamo subito Infatti eccoci qui a Stark Industries ragazzi Dobbiamo salire fino a lì sopra Usilizzeremo questa funivia Tanto abbiamo il nostro pollo con le aliche Guardate qui guardate che fighi che siamo Siamo troppo fighi raga Ok ci siamo Ci siamo finalmente Finalmente siamo arrivati Allora Io so come è andata la prossima partita Che vedrete dopo di questa raga Ma non vi dico che cosa è successo Però adesso Utilizzerò degli accorgimenti Per far si che non accada quello che è successo Nella partita che vedrete dopo Perché veramente Dopo sono successe delle cose assurde E non vorrei che succedano anche adesso Quindi vorrei solo spiegare il boss in tranquillità Ok Magari c'era Traster che faceva interferenza con il boss Invece adesso non c'è Quindi non fa interferenza Non ne ho idea Comunque Allora Abbiamo subitissimo uno scagnozzo qui Che lo uccidiamo E non dobbiamo assolutamente aggrarli raga Perché altrimenti ci vanno a sparare il boss E se ce l'ho uccito non problema Facciamo fuori anche le fotocamere Qui che ci disturbano Anche questa via E iniziamo con il cercarlo Almeno cerchiamo il boss No? È una cosa molto logica da fare Almeno cercarlo Io lo cercherei Allora Vediamo in questa stanza se c'è Sembra di no Possiamo essere tranquilli Sì Possiamo essere tranquilli Finiamo lo scagnozzo a terra Lo facciamo fuori subito E ci prendiamo anche il suo fucile Così da sembrare ancora più uno scagnozzo Anche se siamo dei polli in realtà E vi dirò che potremmo provare a passare da sotto Perché di solito si trova qui Vediamo un po' se si trova qui Sì Ragazzi Vediamo che cosa fa Allora Abbiamo stavolta Tutto il tempo a nostra disposizione Non ci ha visto Quindi Oh Ha fatto una capriola Raga Ha fatto una capriola Totalmente a caso Guardate È impaurito Sembra di po' Ah no Non capisco che moto sta facendo Raga Eh Io a fine video ragazzi Perché ho già registrato la fine del video Dico che il boss non fa niente Ma in realtà Ha già fatto una capriola e un balletto strano Ragazzi Adesso se ne va lì sopra Wow Non pensavo Non pensavo facesse tutte ste cose Ragazzi Io pensavo non facesse nulla questo boss Uh 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 Chi è? Uno scagnozzo che mi spara No 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 Vai via Scagnozzo No 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 Scagnozzo No Non rovinare tutto Scagnozzo Non rovinare tutto Ok Adesso ho un punto interrogativo in testa Cavolo Un altro scagnozzo No 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 Vai via Vai via Vai via Vai via Muori Non serve Non serve Che fai questa cosa Attenzione al punto interrogativo in testa ragazzi È molto pericoloso questa situazione Ma Sta rianimando il suo compagno Perfetto È quello che dovrebbe fare Bravo boss Mi stai piacendo Mi stai piacendo Ok Ha rianimato il suo caro scagnozzo Adesso se ne torna il piano superiore Invece no Se rigira e viene verso di noi Ho molta paura Sembra quasi che mi abbia visto E invece no Voleva solamente curare il suo scagnozzo personale Guardatelo Bene una volta che l'ha rianimato Spero se ne torni indietro No Piccona a caso la sua autorità Cioè la sua Stark Industries Oh Oh no 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 Mi sta puntando le mani così Non è un bel segno Senti scagnozzo So che sei appena rianato Ma io ti rifaccio fuori un'altra volta Vediamo se si accorge che c'è un nemico magari Ok Il punto interrogativo è sempre più arancione ragazzi Ma È tornato bianco Adesso sta ritornando un'altra volta Facciamogli qualche troll ragazzi Mentre rianima Mentre rianima Mentre lo rianima Appena si rialza Lo riatterriamo subito di nuovo Guardate Proviamo a trollare il boss Iron Man Mentre lo spiamo Sarà veramente divertente Guardate Guardate Non capisce Sta dicendo Ma l'ho appena rianimato Non ci credo Allora facciamo No non mi ha visto Mi ha visto Mi ha visto Mi ha visto Adesso glielo facciamo fuori Mentre lo rianima ragazzi Lo spariamo al piede Ok Gli abbiamo fatto fuori due scagnozzi davanti Vediamo Allora avviciniamoci Senza farci vedere Oh no Ci ha visto Ci ha visto Ci ha visto Non è stata una buona idea Non è stata una buona idea Non è stata una buona idea Ragazzi Non è stata una buona idea Non è stata una buona idea Lo ammetto Non è stata una buona idea Tra l'altro Sta arrivando anche la safe Quindi Penso proprio Che dovremmo andare Nella prossima partita Tra pochissimo Cosa Cioè Cioè C'è ucciso In questo modo Regà Ma Allora Allora Quando dicevo Che era Il boss Più forte Della storia Di fortnite Penso di aver Avuto ragione Ragazzi Cioè Mi ha fatto fuori Con un colpo Così Dentro una macchina Mentre saltavo Ragazzi Cioè Veramente Il boss Più assurdo Di fortnite È arrivato Ci vediamo Nella prossima partita Ci sarà anche trassar Quindi Non mancate Regà Eccoci qui Beh Questa volta Non ci sono nemici E abbiamo usato I server privati Ragazzi Lo so Lo so È molto più comodo Così Non abbiamo nemici Che ci rompono Possiamo esplorare bene La zona E vedere Che cosa fa il boss Allora Io non so Se può spawnare Anche qui Però Sono otterrato qui Per vedere Che cosa c'era E c'è tipo Un'officina Ragazzi Io non ho mai seguito Marvel Non ho mai guardato Un film Quindi Se sapete Di che cosa Si tratta Cioè Se è un posto Che sta anche In un film Fatemelo sapere Nei commenti Perché sono curioso E mi raccomando Dovete lasciare Subito un grande like Perché altrimenti Il boss Non farà niente Però se lasciate Un like Sicuramente il boss Si comporterà In un modo Talmente strano Che sarà figo Comunque Codice Lollopollo Nello shop Mi raccomando Se volete essere Salutati in un video Ragazzi Il fortunato di oggi È ATK Yassir Un salutone Mi raccomando Codice Lollopollo Nello shop Se vuoi essere Salutati in un video Codice Lollopollo Mi raccomando Ragazzi Fatelo tutti E adesso direi Di non perdere Più tempo Ragazzi Prendere qualche arma Qualche cura Qualcosa E andare subitissimo A cercare Il nostro boss E potremo Spiarlo Per le 24 ore Del gioco Ragazzi Finchè non arriverà La safe Sperando che sia Ancora in safe Voglio vedere Tutte le cose Che fa ragazzi Andiamoci in macchina Perché è lontanissimo No in realtà È molto vicino Però ci andremo in macchina Perché siamo molto pigri Allora io Io salgo sulla macchina Di Iron Man Magari non mi spara Neanche Oh Invece mi spara Lo scagnozzo Invece mi spara Lo scagnozzo Ma io ti uccido Lo scagnozzo Lo sai che ti uccido Verro Ok Penso sia proprio qui Ok Se è lì Allora io faccio una cosa Uccido il mio scagnozzo Personale E Oh Ce n'è un altro E mi trasformo proprio In uno scagnozzo Di Iron Man Vediamo un po' Se questo mi spara Oh Traster Che Potrei aver fatto La figura del pollo In questo momento Ho fatto la figura del pollo Ragazzi Speriamo che Traster Non muoia La vedo molto brutta Come situazione Scappa scappa Fai il giro Vieni da me Vai vai Tanto ti stanno inseguendo Vieni 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 Ok Attento Vai 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 Esci esci qua Mamma mia regà Cioè stiamo morendo dagli scagnozzi Io non ci voglio credere Ehm Attento Oddio Ce la fai Ce la fai Sì sì Ce la fai Ce la fai Ce la fai Tanto hanno una mira peggio Della tua Questi scagnozzi Perfetto Dicevo che volevo ucciderli Per prendere No cosa Ma non è possibile Regà non è possibile Che mi hanno ucciso In questo modo Ma guardate Dove è andata a finire Trasser ce l'è l'ultimo Ce l'è l'ultimo Allora Aspetta Provo a entrare dentro Eccomi qua Eccomi qua Sono dentro Sono dentro Ok Sono dentro Sono qui sotto le scale Allora Cerchiamo di non morire più Cioè in realtà Devo cercare io Di non morire Perché sono l'unico Che è morto fino adesso Oddio Ok Non ci ha visto forse Mamma mia È proprio qui davanti Regà ma questi scagnozzi Sono pericolosissimi Guardate che rimuoio Ok Dicevo Volevo fare il balletto Per prendere la skin Ma non mi hanno dato il tempo Eh ok Ce l'abbiamo Finalmente Dopo parecchio tempo Ma ce l'abbiamo Allora Comunque l'obiettivo del video Era un altro Quello di andare a spiare Iron Man E vedere che cosa fa Durante le 24 ore Quindi dobbiamo anche sbrigarci Perché altrimenti Non vedremo neanche un minuto Ok Qui abbiamo anche gli shieldini Perché vi ricordo che Iron Man È tipo Il supereroe più forte Che hanno mai aggiunto Su Fortnite È il boss mitico Più forte di sempre Ragazzi Non capisco come fa Ad essere così forte E come fa A non essere ancora Stato nerfato Perché veramente I poteri sono troppo forti Secondo me sono troppo forti Oh attenzione Eccolo In realtà non deve vederci Come facciamo Ma non esiste una cabina Per diventare scagnossi di Iron Man Eh no Cavolo ragazzi Questa è una È una cosa gravissima Cioè io ho capito Cioè io ho capito che sono Uno scagnosso Ma non Non mi riconosce Cioè mi riconosce comunque Oh Attenzione Attenzione Come facciamo a spiarlo Se ci riconosce ogni due minuti Allora Allora Io mi metto qui dietro Iron Man Sta spaccando la sua Agenzia Mi sta inseguendo proprio Di cattiveria Ma ce l'ha con me Questo boss è quasi Spiabile ragazzi Cioè Ok adesso Adesso Ha tolto il punto interrogativo Occhio tra Non uscire Non uscire Attento Lo vedi Ti sta guardando malissimo Adesso viene verso di me E rianima Oh No 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 Non lo rianima più Perché mi ha visto Probabilmente Oh Oh ha visto thruster Oh Thruster ti ha sciolto Con un colpo Allora Sta rianimando il suo scagnozzo Quindi io arriverò Presto da te No Se l'è andato Se l'è andato Eccolo Guardi attento Ok fermo Fermo Vai Vai vediamo chi fa prima Rianimarlo Penso proprio lui Però va bene uguale Devo stare molto attento Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Aiuto 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 No 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 Sono morto Vittoria Vittoria reale Ma siamo fortissimi Siamo incredibili Ragazzi questo boss Non fa niente di speciale Cioè non so se avete visto Ma non ha fatto assolutamente niente Se non uccidere i nemici Cioè raga Pensa solamente ad uccidere i nemici E preferisci uccidere prima le gelatine Tipo thruster Thruster che cosa ne pensi Di questa tua morte Così violenta Come ti è sembrato questo boss Imbarazzante È troppo forte ragazzi Io spero che questi poteri Li indeboliscano Perché veramente è troppo forte Beh raga che dire È stato molto divertente Scoprire che questo boss Non fa assolutamente niente di strano Ma ti uccide E ti scioglie con i suoi poteri È una cosa strana In realtà l'ha fatto È quella di Magari Preferire Cioè preferisce uccidere i nemici Piuttosto che curare i suoi scagnozzi È un po' strana come cosa Non so se ci hai fatto caso Comunque Grazie mille a tutti per la visione Vi ricordo Codice Lollopollonello shop Raga è molto importante Fatelo e taggatemi su Instagram Ma ci vediamo in un prossimo video Raga Grazie a tutti per la visione Lasciate un like È bella Grazie a tutti per la visione